Per la partita di stasera direi che il piano partita è stato raggiunto in maniera totale, non volevamo concedere dentro l'aria ogni punto di riferimento, volevamo continuare ad essere aggressivi sul perimetro, di cercare di essere più incisivi, cosa abbiamo fatto in altre partite dentro l'aria, sapevamo che avremmo costruito il risultato sulla difesa, credo che sia in eccezibili aver tenuto 60 punti, una squadra come il Forliti nelle ultime due case, come leggete mi se sbaglio, ha rasentato 100 punti, è andata sopra i 90 sicuramente e quindi credo che sia stata una prova sicuramente di grande lucidità su quello che erano gli obiettivi e quello che volevamo raggiungere e che abbiamo per seguire. Alla squadra tutta la settimana ho detto che ci mancava qualcosa nel migliorare a livello individuale quello che doveva essere piccole cose che avrebbe portato a raggiungere il risultato.